Rosolini, pregiudicato, lancia pietre contro Carabinieri, tenta di scappare, arrestato per violenza e resistenza pubblico ufficiale. La notte di martedì, Rosolini, Carabinieri della Compagnia di Noto, hanno arrestato un marocchino di 26 anni per violenza e resistenza pubblico ufficiale. L'uomo, bracciante agricolo, gravato dal precedente di polizia per rapina, furto, ricettazione e resistenza, aveva tentato di darsi alla fuga durante un controllo dei Carabinieri intervenuti a seguito della segnalazione di alcuni cittadini che lo avevano notato, mentre si aggirava nel centro abitato tra le auto in sosta con delle pietre in mano. Raggiunto, ha cercato di opporre resistenza lanciando le pietre che aveva con sé contro i Carabinieri, ma è stato bloccato e tratto in arresto.